Pace e bene a tutti, bentornati. Oggi 6 settembre ricordiamo San Zaccaria. Ascoltiamo. Zaccaria fu un profeta biblico, penultimo dei profeti minori dell'Antico Testamento. Contemporaneo di Agheo, altro profeta minore, sostenne la necessità di ricostruire il Tempio di Israele, distrutto a causa delle vicissitudini del popolo eletto. Zaccaria rincuora gli esuli, tornati da Babilonia, che attraversavano un periodo di delusione e smarimento a causa di alcune incomprensioni con la comunità giudaica rimasta in patria, promettendo che Dio realizzerà le promesse messianiche. Zaccaria annuncia la rinascita della casa di Davide e parla di un Messia umile e pacifico, in cui gli evangelisti hanno riconosciuto Gesù, il re pacifico che entra in Gerusalemme cavalcando un'asina. Zaccaria, infine, annuncia un misterioso trafitto, cui guarderanno gli abitanti di Gerusalemme, un testo che sarà citato dall'evangelista Giovanni, parlando della lancia che trafisse Gesù al costato, provocando la conversione del soldato romano. Per questi motivi, Zaccaria è uno dei profeti più citati nel Nuovo Testamento ed è venerato anche nella tradizione cristiana. Zaccaria è stato un profeta che ha vissuto in un momento particolarmente triste per il popolo di Israele. C'era qualcosa che non andava, un motore che non riusciva a ripartire l'esilio, quindi la vita lontano da Gerusalemme, questa ripostruzione del Tempio, ma pare che Dio fosse ancora in un altro luogo, non fosse più con il popolo. Si guardava in avanti e non si vedeva un futuro roseo. Allora proprio Zaccaria, profeta, inizia ad incoraggiare, inizia a rianimare gli sfiduciati e come lo fa? Iniziando a mettere al centro di tutto una profezia, ossia quella del Messia. Inizia a riparlare del Messia, di questa promessa, di quest'uomo che tornerà a salvare il popolo e restituisce al futuro una promessa del bello. C'è una bella analogia con questa fase che il popolo di Israele stava vivendo e quella che stiamo vivendo noi oggi, perché pare che il nostro futuro possa non essere bello. Se avete fatto questa esperienza, anche essere un po' appassionati di cinema negli anni 80-90, iniziava la tecnologia a fare vari progressi, allora tutti i film erano quasi ambientati nel futuro e questo futuro era magnifico, che tu quando vedevi questo film dicevi, oh che bello, non vedo l'ora che queste cose saranno vere, anch'io voglio vivere così, la società sarà così e quindi il futuro veniva immaginato, raccontato come qualcosa di bello, che non vedo l'ora di arrivarci. Vediamo invece adesso, anche affacciandoci nei film e facendo questa lettura un po' sociologica, tutti i film adesso ambientati nel futuro, ecco, ci presentano un futuro abbastanza bruttino. O ci sono grandi malattie, o ci sono governi che non sono buoni, insomma, nei confronti del popolo, manca la libertà, i computer prendono il sopravvento sull'uomo, i robot sono cattivi, arrivano gli alieni ad ucciderci. Ecco, il futuro che immaginiamo adesso non è bello da vivere e questo lo vivono anche molto i nostri giovani che quando si ritrovano a dover sognare dicono, ma sai cos'è? In automatico quasi non mi conviene pensare al futuro perché in effetti ho poche possibilità, quindi viviamolo oggi, non ci preoccupiamo di costruire un domani e poi il problema è che questo domani arriva e non si è costruito quasi un bel nulla. Cosa possiamo fare allora noi oggi? Prendiamo spunto dal profeta Zaccaria. Iniziamo a mettere un po' di coraggio nel cuore dei nostri giovani, testimoniandoli che la bellezza arriverà, anche perché la bellezza più grande non è una bellezza fatta da una carriera o da altro, ma è la bellezza di Gesù Cristo che è una certezza. Nella nostra vita incontreremo Gesù Cristo che ci aspetta e che ci salverà. E che cosa c'è di più bello di questo come nostro futuro? che è una grande promessa. E affinché tutto ciò prenda concretezza e forza nei nostri cuori, noi ci affidiamo all'intercessione di Zaccaria profeta e lo preghiamo. San Zaccaria prega per noi.